Il Teatro Romano di Teramo tornerà a vivere con 600 posti fruibili per eventi e spettacoli, come prevede il progetto dello studio palermitano di architettura Bellomo. Il Ministero dei Beni Culturali ha confermato lo stanziamento complessivo di 1.500.000 euro, 700 dei quali immediatamente erogabili per l'intervento di recupero di cui si parla da ormai 20 anni. Ottime le notizie dunque quelle che il Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, riferisce dopo l'incontro romano fatto con i tecnici ministeriali. Sembrerebbe una storia lieto fine, ma c'è un però. Il Ministero impone infatti un limite di tempo per eseguire i lavori, oltre il quale i fondi saranno annullati. Insomma, lo Stato vuole la garanzia che l'intervento venga realizzato in tempi brevissimi, altrimenti addio finanziamenti. E allora, quale sarà da oggi in poi il cronoprogramma di questa opera infinita? La prima scadenza che l'amministrazione comunale dovrà rispettare sarà quella dell'approvazione del progetto preliminare di recupero in Consiglio Comunale, prevista entro il mese di marzo. In quell'occasione saranno approvate anche alcune varianti avanzate dalla sovrintendenza e dai cittadini. A quel punto i progettisti avranno due mesi di tempo per apportare le modifiche e rimettere al Comune il progetto definitivo. L'iter si concluderà con l'ultimo voto favorevole dell'assise consigliare, che dovrà anche decidere sulla variante urbanistica che implica l'abbattimento dei palazzi Adamoli e Salvoni con i relativi espropri. A quel punto arriveranno anche i fondi aggiuntivi stanziati dalla Regione Abruzzo e dalla Fondazione Tercas. Per i primi mesi del 2020 l'iter burocratico dovrà essere concluso per procedere ai lavori di recupero. Questo, avverte il sindaco d'Alberto, per il Teatro Romano di Teramo è proprio l'ultimo treno.